Allora, nuovo appuntamento con Dezbao, una registrazione un po' particolare, perché sono fuori, però mi andava di farla. Dunque, dovrebbe essere il numero 12, se non sbaglio, altrimenti correggerò. Oggi voglio raccontarvi questo libro, che è San Marino Goodbye di Luca Restivo. Direi opera prima di Luca Restivo. Come sempre, se sono qui a parlarvene è perché è un libro che mi sento di consigliare, queste non sono assolutamente recensioni, sono consigli di lettura del tipo, io questo forse interno leggerei, tant'è che questo pensavo di prestare la mia mamma, che è sempre il mio riferimento circa i livelli delle letture. Allora, cosa succede? In un giorno qualunque, non qualunque, ma in un giorno particolare, festa della libertà di San Marino, succede che i capitani reggenti, si chiamano capitani reggenti, aspettate che verifico. Capitani reggenti, capitani reggenti che sono due figure che reggono la Repubblica di San Marino, che è la repubblica più antica del mondo, alternandosi ogni semestre, cioè ogni sei mesi vengono eletti due capitani reggenti. Torniamo a noi. Uno dei due capitani reggenti, mentre l'altro è in missione all'estero, chiude le frontiere e fa quindi di San Marino uno stato che esce da Schengen con tutto quello che ne consegue. Conti correnti degli italiani bloccati, nessuno che può entrare, gran confusione, gran casino. Vi lascio a voi scoprire oltre la trama. Il libro si risolve tutto in una giornata, qualche ora, insomma, ruota attorno a questa data qui, poi c'è anche quello che succede in seguito, richiami a cose precedenti, però diciamo che si risolve tutto nell'arco di qualche ora intorno a questo fatto, cioè la chiusura dei confini. Cosa mi è piaciuto di questo libro? Allora, intanto la storia in sé, perché è molto originale. È molto originale, è surreale, anche se richiama tanti elementi che appartengono alla nostra quotidianità. È surreale inserita nel contesto San Marino, Repubblica di San Marino, però in realtà non è così surreale, comunque va a solleticare corde che ci appartengono, diciamo così. Ma la cosa che mi ha veramente colpito di più, le cose, sono due. Il primo è la struttura narrativa, cioè è organizzato in capitoli e i diversi capitoli seguono vicende che si svolgono parallelamente, cioè i protagonisti sono diversi, ognuno ha la sua storia, ognuno ha il suo percorso e durante queste ore di vicende il loro percorso viene portato avanti. Ci sono almeno una decina, un numero sparato a caso, non mi va adesso di andarli a ricontare e a nominare, una decina di personaggi che sono, almeno, raccontati, approfonditi e che impariamo a conoscere lungo tutto quanto il racconto. Ognuno con le sue peculiarità, ognuno con le sue caratteristiche, ognuno con il suo spazio. E questo attraverso lo svolgimento narrativo della storia. Quindi questo a me è piaciuto molto, perché ci sono tanti personaggi, perché ogni personaggio ha un ruolo che non è solo quello del suo personaggio, ma rappresenta qualcosa all'interno del contesto narrativo. E questa cosa qui non so se si è capita, ma io l'ho capita. So che cosa volevo dire, per cui se per caso non è chiaro per qualcuno, me lo chiedete e ve lo spiego. Faccio così perché ho gli occhiali sempre storti e adesso che sto facendo la ripresa, vedendomi, mi dà fastidio. L'altra cosa è proprio la scrittura. Luca Restivo, cazzo, è bravo a scrivere, c'è niente a dire. È proprio bravo a scrivere, perché riesce a essere divertente. È una lettura divertente e secondo me ha deciso di fare una roba stilisticamente molto complessa, perché riesce a mantenere un registro dall'inizio alla fine che invece è un registro che in genere viene relegato a brevi momenti. Invece lui riesce a tenerlo dall'inizio alla fine, fa una scelta di registro e narrativa molto chiara e molto definita all'inizio e la segue tutto. Io sinceramente non pensavo che riuscisse a mantenere quel registro e quel mood dall'inizio alla fine, pur dando alla storia colori diversi ma raccontati sempre con lo stesso filtro. giallo. Spero di essermi spiegato. È un po' come quando nei film ambientati in Messico è tutto giallo. Ok? Può succedere di tutto, però è sempre giallo. Ok? Questa è l'esemplificazione. Succede di tutto. Non è assolutamente un libro piatto da un punto di vista né degli eventi né delle emozioni. È impreziosito dal fatto che la struttura narrativa, il filtro narrativo, il registro narrativo è molto divertente e coerente dall'inizio alla fine. Non cala mai, non ha mai un cedimento, non è mai eccessivo. È sempre pulitissimo, sempre... E a me sta roba qui mi fa incazzare tanto gli è riuscita bene, tanto è bravo. Mi dà proprio rabbia perché è veramente bravo. Questo è veramente una cosa che è molto capace. Tant'è che nel raccontarlo, pur essendo chiaro dall'inizio alla fine, che si tratta di una storia frutto di fantasia e arricchimenti e quant'altro, risulta talmente credibile, come viene raccontato, risulta talmente credibile e preciso in quello che racconta, che quando alla fine scioglie tutto quanto e porta a tutta la conclusione, tu sai che non è vero ma il dubbio ti viene. Non riesco a spiegarmi, non è che ti senti idiota, non è che ti rincoglionisci e dici ma forse è successo veramente. No, ti coinvolge talmente tanto, è talmente tanto efficace la narrazione che a un certo punto, anche quando arrivi alla fine, anche quando lo sai, ti viene da dire forse un pezzettino vero, qualcosa di vero qua e là perché ti sembra troppo e quindi lo consiglio veramente tanto. Ero partito un po' prevenuto e dico questa cosa così, giusto per dirla, ma non è vero, non ero prevenuto, anzi un paio di feedback hanno fatto sì che io lo portassi più in alto nella posizione sul comodino, quindi è stato letto prima di quanto gli sarebbe aspettato. Però sono rimasto molto colpito, l'ho letto in poco tempo, si legge molto bene perché la scrittura tra l'altro scorre anche in maniera molto piacevole. Lui è molto bravo, la storia è divertente, il susseguirsi dei capitoli ti accalappia, madonna accalappia, Dio santo. Vabbè, arriviamo alla fine, un libro che secondo me merita di essere letto, è un libro leggero nel senso che è piacevole, non è uno di quei libri che sono pesanti o hanno dietro chissà quali morali, quali storie, nonostante vada adesso a colpire un po' di quelli che sono i nervi scoperti della politica e della società mondiale. Quindi un libro piacevole che si legge bene, scritto molto bene, con un registro divertente, ironico, comico, difficilissimo, difficilissimo, per me è incredibile, con una capacità di raccontare sopra la media indubbiamente e con una storia che comunque regge dall'inizio alla fine nella sua assurdità. Quindi mi sta anche per venire su un rutto, ve lo risparmio dicendovi San Marino Goodbye, Luca Restivo, Blechi Edizioni, non mi ricordo se è uscito alla fine dell'anno scorso, all'inizio di quest'anno, ci guardo quindi è un 2023-2024, però ci guardo che così vi tolgo il dubbio, cerchiamo di farcela entro i 9 minuti, addio mi sale l'ansia, finito di stampare gennaio 24, ok? Ciao!